Sono stati spesi adeguatamente soldi pubblici per realizzare il centro di raccolta comunale di Contrada Vallone Monaco e le isole ecologiche? Gli impianti sono stati completati? Esistono criticità? Domande alle quali cercheranno di dare una risposta agli studenti della IVA del Liceo Economico Sociale dell'Istituto Vito Fazio Almayer di Alcamo, che punteranno i loro riflettori proprio sul Cicerre e sulle isole ecologiche, aree in cui vengono stoccati rifiuti ingombranti e anche quelli differenziati. L'analisi di queste opere pubbliche, costate i fior di quattrini e dei servizi connessi, è stata appositamente scelta dall'Istituto Alcamese nell'ambito del progetto scolastico A scuola di open coesione, concorso nazionale che coinvolge più di 100 scuole, che consista nel monitorare un'opera, struttura o attività finanziata con soldi pubblici. Abbiamo scelto questo progetto perché riteniamo importanti innanzitutto le questioni ambientali. Infatti il nome è Green Guardian Angels perché i ragazzi della quartà intendono diventare piccoli angeli custodi del verde. Soprattutto in un momento storico in cui la nostra città ha vissuto e vive ancora alcune criticità ambientali. Vorremmo intanto sapere se i soldi spesi per quanto riguarda questo progetto sono stati appunto spesi bene, se questo progetto è stato completato e se ha avuto un impatto positivo per i cittadini. Il progetto è stato trovato sul sito di open coesione, la piattaforma online su cui sono reperibili i cosiddetti open data, cioè i dati cui finanziamenti è accessibili a tutti. Per la realizzazione del monitoraggio civico di cui si occuperanno gli studenti si sono costituiti in team con il nome di Green Guardian Angels. Hanno scelto questo nome perché innanzitutto ritengono importanti i temi ambientali e la salvaguardia del pianeta. Noi Green Guardian Angels abbiamo idealizzato una pagina Facebook dove tutti sono invitati a seguire i nostri lavori e a seguirci completamente su tutto quello che facciamo. L'aspirazione è quella di diventare piccoli angeli custodi del verde in un momento storico in cui la città di Alcamo vive diverse criticità ambientali. Lo scopo è quello di sensibilizzare sempre di più i cittadini alla raccolta differenziata e di creare una coscienza ecologica sempre più robusta. Vogliamo dimostrare ai cittadini che con questo progetto possiamo dare un segnale a questa città e quindi per esempio con i rifiuti che lasciano per strada o quant'altro possiamo dare un segnale veramente importante a questa città.